Accolto con l'affetto riservato ad un vecchio amico, di quelli che non vediamo da tempo ma che siamo ben felici di rincontrare, il centro sportivo Lenaiedi ha ufficialmente riaperto i battenti. Che il territorio, siamo a Pescara, al confine con Montesilvano, avesse voglia di tuffarsi letteralmente in questa nuova avventura, appare subito evidente dal boom di iscrizioni registrato oggi. Certo, c'è voluta tanta rabbia, tanti ritardi, tanto impegno, ma alla fine, almeno per un anno, l'associazione temporanea di imprese, capitanata dalla Pretuziana, gestirà il complesso sportivo. Come sono le prospettive? Sono ottime, sono ottime perché abbiamo ricevuto una risposta importantissima dagli utenti, abbiamo tantissimi abbonamenti, più di quelli che ci aspettavamo. Già qualcuno, già da oggi, perché ufficialmente riapre oggi la piscina, già qualcuno sta soffrendo delle Lenaiedi e vogliamo far tornare e dare importanza alle Lenaiedi per quello che sono, per un centro sportivo, ricreativo, culturale, per farlo tornare il fulcro della città. Come si fa a lavorare con una scadenza incorporata? È un'impresa, è un'impresa e avremmo sperato di avere una gestione più lunga, anche per portare delle migliorie. Abbiamo già in mente tante cose, anche sotto l'aspetto del risparmio energetico, piuttosto delle migliorie anche strutturali. Però oggi è così, lavoreremo così e se saremo bravi vedremo, vedremo che cosa succederà. Abbiamo scelto di riaprire tutto, completamente, perché vogliamo che Pescara possa avere a disposizione l'intero impianto e sarà anche così per la piscina scoperta. Siamo stati impegnati come SLC e come Fisaska CISL dentro questa riapertura e è chiaro praticamente che questa è una nuova ripartenza per noi. Ci volevamo essere, ci siamo, i lavoratori hanno contribuito anima e cuore alla ripartenza, siamo stati sopportati tutti dalle strutture territoriali e noi ce la metteremo tutta perché questa struttura continua a rimanere aperta perché è un ferro all'occhiello di questo territorio e noi non ci possiamo più permettere di vederla nuovamente chiusa. Questa struttura lo merita, i lavoratori che sono qua dentro, ma anche l'utenza ovviamente, merita di tornare a avere quella visibilità positiva che noi tutti chiaramente lavoriamo perché torni a essere. Era un giorno che attendevamo, abbiamo lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo, nonostante una montagna di problemi e di debiti che gravavano su questo impianto, la Regione ha fatto tutto quello che era in suo potere e che era suo dovere fare. Ringrazio le associazioni che hanno vinto il bando, un bando che abbiamo fatto nonostante il periodo estivo, con gli uffici che non hanno fatto vacanze per istruirlo e assegnare con un solo giorno di tempo dalla scadenza del bando, proprio per permettere questa riapertura all'inizio della stagione, finalmente la possibilità di tornare a giocare e a nuotare in questo impianto.